buongiorno e benvenuti a questa puntata di inscapire la guida italiana di escape nella quale si parlerà del file menu il file menu lo troviamo qua in alto a sinistra clicchiamo e dal numero discesa compaiono queste voci vediamo che alcune sono assolutamente classiche nuovo apri salva salva come sono corrispondenti assolutamente a quello che noi conosciamo usando qualsiasi altro programma word writer calc eccetera non ci sono grosse differenze quello su cui ci dobbiamo focalizzare sono le voci un po più particolari nuovo da modello anche questa è un qualcosa che viene messo a disposizione anche da altri programmi ma vediamo le peculiarità di ciò che offre inscape se noi apriamo un nuovo da modello vediamo una serie di template che il nostro nostro programma mette a disposizione per fare molte cose biglietto da visita una russura a tre facciate cioè un p che pieghevole su base a 4 a 3 fogli praticamente a tre facciate oppure una copertina dvd e quant'altro in questo caso io ho messo anche un paio di template personali questo perché spesso nei forum si trova qualche utente inglese che vuole utilizzare come default le misure in loro le misure imperiali quindi pollici e eccetera e chiedono come fare un template che di default si apra un foglio che si apre non magari con una quattro ma con un qualcosa espresso in in pollici e questo è il sistema praticamente creare un template in pollici registrarlo salvarlo come template vedremo la voce successiva e averlo quindi qui a disposizione infatti qui ho creato un prova pollici che se clicco mi apre un qualcosa che è settato in pollici su un formato a caso che potrebbe essere che sono una specie di piccolo album fotografico ma torniamo alla voce nuovo da modello perché ci sono altre cose un pochino più significative ad esempio la copertina dvd che può far comodo anche se tv di magari non utilizziamo quasi più crea da modello qual è la cosa la cosa interessante è che praticamente noi abbiamo il programma meglio ci mette a disposizione già delle guide delle marginature un formato della pagina e ci dice anche avviciniamoci in che cosa che cosa consiste left spine e right spine praticamente sono le bordature delle facciate e quindi questa è la costola della nostra copertina dvd ancora più interessante probabilmente è se lo trovo il canvas tipografico crea da modello forse anche più complesso questo è un canvas che serve a creare dei font per coloro che sono interessati a creare le font questo è il diciamo tempo ideale dai fatti la distanza dell'ascendente che naturalmente può essere variata a nostro piacimento a seconda delle nostre esigenze delle maiuscole l'altezza della lettera normale la linea di base e il discendente esempio la la gambina della lettera p arriva fino qua giù e su questo noi possiamo creare i nostri fonti e questo è diciamo la parte più importante per quanto riguarda il nuovo da modello apri da recenti abbiamo è abbastanza intuitivo ricarica ricarica è interessante perché carica l'ultima versione salvata del documento però tutti i cambiamenti operati nel frattempo andranno persi quindi tutto ciò che ci riporta praticamente al nostro file come appena aperto salva come salva una copia sono abbastanza anche qui visti e rivisti e poi abbiamo il salva come come modello abbiamo visto prima appunto che è possibile creare un nostro template in pollici oppure in pixel o quant'altro e qui lo salviamo come modello e lo troveremo nel menu non solo ma potremo dargli un nome dichiararci come autore descriverlo brevemente anche con parole chiave e poi con questa spunta qui impostarlo come modello pre predefinito se ad esempio noi volessimo creare un nostro font ci basiamo su questo ne diamo le misure l'altezza e carattere e quant'altro e poi lo impostiamo come modello pre predefinito per poterci poi rilavorare senza dover stare a impostare nuovamente l'ascendente il discendente così via poi abbiamo un'altra voce che è quella di importa si seleziona il file da importare che potrebbe essere un png esempio si apre questa finestrella che ci chiede se vogliamo incorporare o collegare il nostro file allora incorporare significa che viene creata all'interno della nostra finestra una copia del del file che stiamo aprendo del file raster che stiamo aprendo collega invece significa che viene fatta sia una copia ma non viene incorporata semplicemente c'è un collegamento al file originale quindi quello che vediamo qui è una sostanza una copia virtuale mentre nel caso di incorpore proprio una copia 100 per cento del nostro del nostro file che importiamo la nostra immagine la differenza che naturalmente incorpora creando un file ex nuovo il file diventa più pesante con collega invece no perché appunto è solo un'immagine virtuale c'è da dire che se noi cancelliamo poi l'immagine originale con incorpora ne abbiamo una copia qui con collega invece il collegamento si interrompe e qui apparirà un grosso punto interrogativo qui sono i dpi dell'immagine se le possiamo portare quelli del file originale oppure come una risoluzione predefinita per importazione come modalità di rendering è importante se l'immagine a sfumature gradienti e quant'altro e qui importiamo senza nessuna nessun rendering quindi una cosa più più leggera con fluida ottimizziamo la qualità naturalmente a scapito della pesantezza con grezza manteniamo un magari i gradienti ma in modo abbastanza approssimativo in modo da favorire invece la velocità di acquisizione clicchiamo con ok e abbiamo importato la nostra immagine passiamo quindi a esporte immagine png allora noi abbiamo creato il nostro capolavoro lo vogliamo esportare supponiamo che il nostro capolavoro sia più o meno questo cancelliamo quello che non ci serve eccoci qua e noi possiamo lo mettiamo innanzitutto mettiamolo qui dentro la pagina è un pochino più conveniente anche se naturalmente non è così necessario perché comunque l'area di esportare può essere la pagina in questo caso lui in programma esporta tutto ciò che è compreso in questa in questa pagina attenzione anche se il riferimento alla pagina non è presente cioè se anche se lo avessimo eliminato in questo modo quando andiamo a esportare lui comunque mi esporta questa pagina a4 questa è una caratteristica di escape oppure possiamo esportare il disegno allora ci esporta tutto quello che è disegnato in questo caso queste due oppure con selezione esporteremo solo il cerchio altrimenti personalizzata ridiamo una un'area qui da esportare e lui ubbidiente ce lo fa qui fissiamo la dimensione dell'immagine qui soprattutto i dp utile per esportare per esempio la stampa 300 di pc qui abbiamo la direttori di esportazione eventualmente la possiamo anche scegliere andando un po dove ci pare e scegliendo qui il nome ora non lo faccio per comodità esporta esportiamo quanto abbiamo abbiamo selezionato e possiamo esportare separatamente gli oggetti selezionati noi abbiamo la selezione multiva esportiamo separatamente oppure con avanzate possiamo definire dei parametri particolari questo magari è più importante rgb a 8 perché escape esporta autobit ma soprattutto che ci sia questo a a e la canale alfa la trasparenza e siccome l'esportazione avviene sempre in png è importante avere a questo questo tipo di esportazione cioè con il canale alfa perché altrimenti se fosse solo un rgb o rgb 8 il canale alfa non sarebbe considerato il nostro png sostituirebbe la trasparenza con un nero che effettivamente non è il massimo della vita allora vediamo un po altre voci stampa con questo meno stampiamo ciò che abbiamo sul documento con pulisci documento è un po particolare pulisci documento significa praticamente che noi ripuliamo il documento dalle definizioni xml questo è il nostro editor xml a tutte quelle definizioni che non sono usate ad esempio definizioni gradienti che non sono più applicati che magari abbiamo utilizzati ma non sono più in uso e pattern filtri eccetera e questo per alleggerire il programma finale il peso del finale del file può essere necessario talvolta chiudere e riaprire il documento perché le modifiche abbiano abbiano luogo poi abbiamo proprietà del documento clicchiamo qui abbiamo già visto l'occasione dell'eliminazione della pagina di riferimento questa queste proprietà del documento infatti la prima delle proprietà dedicata proprio alla pagina dove vengono innanzitutto stabilite le unità di misura visualizzate i millimetri questo cambia anche sia le unità di misura qui sia quelle dei righelli viene stabilita dimensione della pagina possiamo scegliere vari tipi di pagina da visualizzare eccole qua ce ne sono un'infinità tra cui anche le icone un banner eccetera l'orientamento verticale orizzontale proviamo a fare questo banner per forza è orizzontale stabilire una misura personalizzata ridimensionare la pagina al contenuto e quant'altro qui dimensionare anche come scala e poi possiamo stabilire lo sfondo lo sfondo se sia scacchiera oppure bianco in questo modo sfondo scacchiera ci dà l'idea effettivamente della trasparenza che circonda la nostra la nostra immagine mostrare nascondere i bordi della pagina mostra l'ombra della pagina oppure no e i bordi in cima al disegno ovviamente pone il bordo in cima all'area di lavoro ma non è particolarmente significativo mostra l'ombra della pagina abbiamo visto e anche il colore del bordo qui possiamo utilizzare l'anti alias passiamo alle guide allora per le guide abbiamo scelta di mostrare bloccare tutte le guide di impostarne il colore che era guida attorno alla pagina o rimuovere tutte per chiarire la guida è quella che si ottiene trascinando dal righelli cliccando trascinando e qui appunto nel menu che abbiamo visto possiamo bloccarle possiamo bloccare anche da qui o altrimenti appunto questo non si muove mostra le guide blocca tutte le guide cambiamo il colore delle guide un azzurro un pochino più turchese eccetera oppure rimuoviamo tutte le guide e poi chiudiamo per rimuovere le guide possiamo anche andare in modifica e rimuove tutte le guide continuiamo con le proprietà del documento con le griglie stesso discorso possiamo creare una griglia rettangolare una griglia assonometrica per la griglia rettangolare clicchiamo su nuova e appare la griglia così come l'abbiamo concepita con unità della griglia che possono essere in millimetri allora possiamo mettere una spazzatura che so di 10 millimetri con le linee principali ogni cinque eccole qua questo praticamente un'unità della griglia e le righe principali di 5 mm sono queste e l'origine degli assi ovviamente origine a griglia 0 0 in questo caso non conviene cambiarla la griglia che si è abilitata visibile agganciata solo le linee visibili a griglia ad esempio abilitata se la spuntiamo non non avremo a disposizione anche attivando il comando griglia pagina non sarà nemmeno visibile la possiamo rimuovere e possiamo creare una griglia assonometrica nuova eccola qua è una griglia avviciniamoci un pochino con gli angoli x e z e 30 gradi l'angolo x e questo quello formato per chiarezza dalla guida a questo segmento e l'angolo z è quello reciproco invece da questo a questo anche qui spazzatura origini x e y queste questo è quanto assieme alla possibilità di dare il colore particolare alla griglia per quanto riguarda appunto questa caratteristica aggancio agli oggetti questa è la barra degli agganci e aggancio agli oggetti è stabilito qui agganciare sempre agganciare solo se più vicino di cioè praticamente l'aggancio si attiva solo se noi siamo in una prossimità di 20 pixel dal diciamo dal luogo dell'aggancio e queste sono le varie altre caratteristiche si aggancia le griglie si aggancia alle guide e quant'altro c'è anche la possibilità di agganciare perpendicolarmente agganciare tangenzialmente questa è una caratteristica che vediamo la tolgo un attimo la griglia che disturba vediamo un po aggancia tangenzialmente allora qui lo creo come un tracciato attivo tutte queste voci giusto per vedere era un po se ecco come gli ha tracciato tangente cioè attiva lo snap quando il tracciato tocca tangenzialmente questa questa figura è un modo in più di attivare una possibilità in più di attivare lo snap questo possiamo chiudere che non ci serve per il colore sono i profili di colore per la stampa questo sono decisamente sono cose molto particolari di cui potremmo forse avere interesse a fissare i metadati cioè quei dati che vengono fusi dentro il nostro file tra cui potrebbe essere interessante il nostro nome come come autore e poi c'è la possibilità di stabilire anche qui come dato annegato nella struttura del nostro file il la licenza di distribuzione con cui noi distribuiamo il nostro file dopo proprietà documento abbiamo il classico chiudi file ed esci da escape e per il menu file è veramente tutto